Presentata oggi pomeriggio in Senato presso la Sala Caduti di Nasseria di Palazzo Madama, la seconda edizione della Notte dei Serpenti, il concertone ideato e diretto dal maestro Enrico Menozzi per celebrare la cultura e la tradizione musicale abruzzese, in programma il 20 luglio allo Stadio del Mare di Pescara. Nella prima edizione avete superato i confini regionali, la presentazione di questo secondo evento al Senato va a certificare qualcosa di ancora più grande? Sì, è emozionante, dentro di me dicevo, madonna ma dove mi sono ritrovato? Poi invece però razionalizzavo, dicevo ma è giusto, giustamente se ne parla qui perché è un progetto che ha avarcato anche quelli internazionali perché ci sono arrivate delle richieste dalla Corea, perché l'hanno visto nella televisione Raimondo, ha mandato in onda anche in Asia, in Africa, in America, in Sud America, la trasmissione, no? E quindi ci sono arrivate delle richieste di andare a fare i concerti lì e spero che prima o poi andremo nelle grandi comunità abruzzesi, per esempio in Canada, penso agli Stati Uniti, a portare questo lavoro per farli gioire della bellezza del loro Abruzzo che finalmente si piglia un po' quello che era lo spazio che si sono presi i napoletani, i campani, i siciliani, la Puglia. Forse prima o poi dovrà toccare anche a noi, certo. Siamo molto orgogliosi di aver ideato, promosso, realizzato e adesso fatto crescere questo evento magistralmente orchestrato dal maestro Enrico Melozzi, una nostra celebrità abruzzese che si è fatto strada, onore e gloria in tutta Italia e in tutto il mondo e che noi stiamo cercando di mettere in condizioni di poter esprimere il meglio di sé e il meglio della cultura popolare e tradizionale abruzzese perché possa essere conosciuta nella maniera più autentica, più bella ma anche più moderna e accattivante, un modo nuovo di proporre la nostra tradizione culturale che è stata troppo poco proposta in passato e a volte anche proposta decisamente male, magari con forme grottesche o poco adeguate e poco dignitose dal punto di vista dello spessore artistico e culturale. Stiamo impegnando i nostri migliori artisti per dare un'immagine piena, bella, autentica del nostro patrimonio che possa far sentire e far crescere anche il senso di appartenenza, il senso della comunità, il senso dell'essere abruzzesi, al di là delle differenze locali e dialettali che sono molte, una delle difficoltà di questo evento è che non esiste un unico dialetto abruzzese in cui tradurre canzoni o presentare progetti. Io spero che il pubblico, da quelli che sono i miei sentori, dovrebbe essere molto di più di quello dell'anno scorso, anche se con una disposizione nuovissima di quella piazza, perché lo Stadio del Mare quest'anno noi l'abbiamo pensato al contrario, per cui il palco vicino alla nave di Cascella che guarda il mare, questo restringe un po' le potenzialità di pubblico di quella piazza ma crea un'immagine televisiva centomila volte più bella. Quindi abbiamo preferito puntare su quei milioni di persone che ci potrebbero seguire in tv e di sacrificare un po' le decine di migliaia che invece ci seguiranno dal vivo. Sotto l'aspetto degli ospiti, gli special guest, le cinque figure le possiamo confermare? Certo, ma ne saranno di più e questo ve lo garantisco. Il problema è che per questioni burocratiche non abbiamo potuto fare l'annuncio di tutti, ma con la pesce di Martino, Comacose, Noemi, Giovanni Caccamo e Umberto Tozzi, insomma credo che sia un parterre di tutto rispetto per una serata indimenticabile in cui tutti loro faranno un omaggio all'Abruzzo, cioè non vengono lì a fare la promozione, la hit e se ne vanno, vengono e sono disposti a diventare abruzzesi per una notte.